Bella ragazzi, qua è Ghiotto, buon giovedì a tutti, vigilia! Eh sì ragazzi, ci siamo di Belgio-Italia, questo video non sarà editato proprio perché non ho tempo, perché sto lavorando al video che uscirà domani, che è la continuazione di questa serie, che spero di portare fino alla finale, perché vuol dire che ci arriveremo. Cosa ne pensano i tifosi, in questo caso dei Red Davis del Belgio, della Nazionale Italiana, o comunque dell'Italia in generale? Trovate quello sull'Astra, qui in alto a destra nelle schede. Qua, sempre nelle schede, c'è il video in cui vi parlo ieri, sempre della situazione aggiornamento Calcio Mercato Lazio, e oggi c'è una novità importante, quindi mettiamo subito un bel like, perché ormai è imminente, perché oggi è primo luglio, eh, quindi inizia ufficialmente la stagione 21-22 e con esso il Calcio Mercato, ok? E i Zai dovrebbe essere, non è ancora ufficiale, ma si dovrebbe chiudere a giorni, dovrebbe esserci forse oggi l'incontro decisivo, il primo acquisto dell'era Maurizio Sarri, ok? Già è arrivato Kamenovic, ma già si sapeva a gennaio, quindi non è arrivato perché l'ha voluto Sarri, cosa invece che è stata per l'albanese classe 94, che gli è scaduto il contratto ieri con il Napoli, quindi è pronto a casarsi a zero alla Lazio, Però, ecco, io ho qualche riserva su questo giocatore, perché comunque non è proprio un terzino di ruolo, comunque non è un grande giocatore, io spero sia un acquisto di secondo piano, Cioè un'occasione, un giocatore che io ritengo funzionale, che piace a Sarri, che però è piede destro e noi forse al momento lo vogliamo far giocare a sinistra, dove siamo carenti perché fare se andrà via, Radun è vecchio e poi non è proprio un terzino di ruolo nella difesa 4, a destra abbiamo Lazari e Maurizio, dovremo vedere poi la situazione sia Maurizio perché è in scadenza tra un anno, Soprattutto Lazari perché è cercato dall'Inter, o comunque un giocatore che ha mercato in Italia soprattutto, quindi monitoreremo la situazione terzini, Però ad oggi io non mi accontento di Zai, cioè io sulla sinistra là volevo un nome più attendibile, concreto, perché se Zai è andato in scadenza c'è anche un motivo, Perché è un giocatore che a Napoli ha fatto il suo, ma ha fatto diciamo anni da 5 e mezzo, 6, parliamoci chiaro, quindi boh, se Zai è il nostro nuovo terzino, Allora viaggiamo continuamente nella mediocrità, però comunque non posso neanche dare un voto negativo, un parere negativo a questa operazione, Perché a 0 abbiamo speso 8 milioni per fare l'anno scorso, e beh allora Zai è un'operazione da 10 se facciamo il confronto, Però noi dovremmo guardare a chi fa meglio di noi, a chi sta meglio, non magari ad operazioni sbagliate, perché sulla sinistra noi abbiamo fatto sempre dei disastri, L'operazione Fares da mani nei capelli, per non parlare di Johnny, Dormisi, giocatori sempre poi non adatti a giocare come quinto a sinistra, Adesso passeremo alla difesa 4, Zai può dire la sua, però sicuramente non è un giocatore che ti fa alzare il livello dei terzini, Quindi è un mio parere, commentate poi con la vostra opinione e lasciate anche un like al video, mi raccomando. E poi un'altra indiscrezione, una voce che è arrivata ieri in serata, è di Alessio Romagnoli, Che è in scadenza tra un anno, e il messaggero dice, promesso sposa la Lazio, lo sapete che lui è tifoso della Lazio, Non è che ve lo devo raccontare, noi lo vorremmo, proprio perché ci piace avere un giocatore comunque bravo, In un ruolo in cui abbiamo bisogno come difensore centrale, poi laziale, sarebbe proprio la chiusura del cerchio perfetta. Però ragazzi, noi di Romagnoli abbiamo bisogno adesso, cioè l'arrivo di Sarri per me significava l'input di una grande Lazio, Magari non subito, però bisogna iniziare a costruire mattone per mattone una grande Lazio, Che magari si vedrà non quest'anno, ma magari il prossimo anno, tra due anni. Però ragazzi, adesso il calciomercato è iniziato, e tra una settimana inizierà a ritira D'Auronzo Di Cadore, Dove non potrò esserci quest'anno per questioni lavorative, non ho ferie, purtroppo, però comunque seguiremo le amichevoli, Ci sarà anche qualche video, sono curioso di vedere come lavorerà Sarri, valuterà tutti i giocatori, Però ragazzi, bisogna investire, c'è le altre squadre, è vero che ci sono pochi soldi per tutti, Però si stanno muovendo, ok? Ci sono grandi allenatori anche sulle altre panchine, Murigno, Spalletti, L'Atalanta comunque ha preso Musso, l'ha pagato anche 15-20 milioni, ragazzi bisogna muoversi, Cioè a me di questa indiscrezione di Romagnoli tra un anno mi viene da ridere, Non possiamo aspettare i giocatori sempre a parametro zero in prestito, Oh, ragazzi, cioè l'Atalanta mi spende 20 milioni per Musso e noi non riusciamo a prendere un giocatore un po' attendibile, Non la promessa Kamenovic, che poi viene da un campionato anche che lascia il tempo che trova, Perché è il serbo, boh, magari in Serbia fai bene, poi qua non sei all'altezza, è l'esempio anche Vedat Murici, Io gli acquisti giovani, li voglio, anche se poi noi dovremmo costruirceli in caso, i giovani nel settore giovanile, Però di Romagnoli ce n'è bisogno ora, perché adesso passerai la difesa 4, Acerbi inizia a avere 33 anni, si può anche infortunare, Acerbi non è che deve fare sempre lo staccanovista, Ci può anche stare, Luis Felipe è un giocatore che nella difesa 4 bisognerà vederlo come si adatterà, Anche lui ha sempre problemi fisici, e dobbiamo sperare che Vavro torni e faccia bene, Ragazzi, cazzo, se io Romagnoli bisognerebbe chiudere quest'anno, non tra un anno, Perché tra un anno chissà, magari poi Sarri già non c'è più, perché poi non si sa tra un anno cosa succede, Eh, io spero che adesso si avvii un progetto almeno di 3 anni con questo nuovo allenatore, Quindi, adesso Romagnoli in scadenza tra un anno, con un'offerta intorno ai 15-20 milioni, Si potrebbe portare a casa, ma io penso anche sui 15, perché Romagnoli è un giocatore che, Il Milan è stato chiaro, non è più al centro del progetto, quindi non è che puoi chiedere 40 milioni come due anni fa, È in scadenza tra un anno, quindi io penso che con una quindicina di milioni si possa chiudere, Ci deve essere anche la volontà del giocatore, ma io non mi posso accontentare di dire, Ah beh, speriamo che tra un anno arrivi Romagnoli, Io non voglio vivere più di speranze, vorrei vivere invece di concretezze, di cose concrete, È chiaro? Comunque, Isai, adesso aspetteremo poi l'ufficialità, Nel caso poi approfondiremo anche un po' le caratteristiche del giocatore, Andremo a ripercorrere un po' la sua carriera, quindi se vi va, fatemi sapere anche se volete un video più approfondito su Isai, Però al momento c'è un po' di immobilismo sul calcio mercatolazio, si parla di questo basic del Bordeaux, Però anche lì mi sembra la solita, il solito azzardo, ok? Il solito acquisto che dici, lo prendiamo perché costa poco, perché anche lui è in scadenza, E speriamo che faccia bene, Il problema è che se tu prendi cinque giocatori, Isai, Vazic, gente così, Kamenovic, Che come dire, sono magari buoni giocatori, ma non è detto che facciano bene, sono come detto scommesse, Non sono certezze, rischi che poi magari solo uno ti fa bene, come è successo anche l'anno scorso, L'anno scorso abbiamo preso Muric, Pereira, Escalante, Fares, tutti i giocatori, Chiamiamoli mediocre, senza offendere nessuno, E praticamente quasi nessuno ha inciso di nuovi acquisti l'anno scorso, Quindi quest'anno, ok che non abbiamo i soldi della Champions, Però cazzo, ragazzi, l'anno scorso abbiamo speso 30 milioni per Muric e Fares, Riusciamo a spendere 15 milioni per Romagnoli? Io non voglio esigere niente, però mi sento di esprimere il mio parere che, Con Isai, con questi buoni giocatori, ma non andiamo da nessuna parte, Se vogliamo alzare l'asticella, perché teniamo conto che le altre stanno facendo mercato e lo faranno, Comunque, perché l'Inter alla fine venderà a Kimi e basta, Quindi l'Inter comunque parte già un gradino, anche due, sopra di noi, La Roma, ho sentito dei nomi già importanti, Il Milan e l'Atalanta danno continuità, Il Napoli comunque già ad oggi è più forte di noi, L'Atalanta non ne parliamo, ragazzi, oh, io metto le mani avanti e ve lo dico, Speriamo di investire tanto perché ce n'è bisogno, Andiamo anche di fronte, incontro a un cambio tattico, Ragazzi, attenzione, ok, io non voglio subito il sarrismo dopo due mesi, Perché lo so che bisognerà lavorare un po', Però le premesse ci devono essere, e si parte già da adesso, Perché adesso non c'è più tempo, siamo al primo luglio, Quindi da oggi si inizia a parlare seriamente di calcio mercato, Adesso finora abbiamo scherzato, ci siamo divertiti, Ora non voglio più sentire cinque nomi al giorno, Ne vorrei uno, due, ma concreti, Come potrebbe essere Alessio Romagnoli, Ma non tra un anno a zero, adesso, ok? Se vogliamo alzare la stice, Se vogliamo restare nella mediocrità, Allora che sia chiaro, Però l'arrivo di Sari, secondo me, È un segnale che noi vogliamo alzarla, ok? Questa benedetta asticella. Signori, like al video, Iscrivetevi al canale, Bella!